Due blocchi di massa m1 pari a 5 kg ed m2 pari a 2 kg, collegati tra loro da una mola di costante elastica k pari a 10 N su un metro, sono appoggiati su un piano inclinato di un angolo teta pari a 10 gradi rispetto all'orizzontale, il piano è scabro, nella parte superiore dove si trova m1 con coefficiente di attrito statico mu con s pari a 0,3 ed è liscio nella parte inferiore dove si trova m2. Nell'istante iniziale m1 è inquiete, m2 ha la velocità v0 pari a 0,5 ms, la molla ha la sua lunghezza di riposo. Calcolare in tale istante A, l'accelerazione di m2, B, la forza di attrito agente su m1, in un certo istante successivo m1 entra in moto, calcolare in tale istante l'allungamento della molla, domanda D, la velocità di m2. Mi sono disegnato la figura che è presente nel testo degli autori Mazzoldi, Nigro Voci, questo è il problema numero 4.31 di pagina 108, il capitolo della dinamica del punto lavoro, energia e momenti, così si intitola. m1 inquiete, fino a un certo istante, c'è una molla che li collega, di costante la zkk, m2 si muove con la velocità iniziale v0 costante pari a 0,5 m al secondo. Attenzione che, cominciamo subito a rispondere alla domanda relativa alla lettera A, che ci chiede la domanda A, l'accelerazione di m2. Allora, attenzione che c'è attrito statico, attenzione che ci parlano di coefficiente mu con s, vedete che ormai mi sono uniformato a questo mu, o mi con s, chiamate come volete, riguardante su m1, infatti nella figura c'è, diciamo qua, c'è un po' di, nel disegno ci fa notare che c'è, diciamo, l'attrito statico qui. Beh, intanto, relativamente, dunque, concentriamoci sulla massa m2, vogliamo l'accelerazione di m2, beh, studiamo le forze, allora intanto, su m2 agiscono sicuramente la forza peso, diretta, come sappiamo, lungo la verticale, così, m2g, abbiamo la reazione r con n2, lo sappiamo, qui non c'è attrito, e quindi scomponiamo la forza peso secondo le sue componenti, assi, questo è un P2 coseno di teta, e poi abbiamo qua un P2 seno di teta, l'abbiamo visto molte volte. Io direi di scegliere un sistema mobile di assi, asse normale e asse tangenziale, che poi è l'asse del moto di m2, e quindi abbiamo che, non esistono c'è attrito per quanto riguarda la massa m2, le due equazioni, quelle lungo l'asse normale e l'asse tangenziale, non sono fra di loro legate, lungo l'asse normale sappiamo, come al solito, r con n2 è pari a m2g coseno di teta, P2 cos theta, perché dove P2 ovviamente l'ho scritto è m2g, mentre invece per quanto riguarda l'asse tangenziale abbiamo che più, quindi m2g seno di teta è pari a m2 per a, e vedete che eliminando m2 e m2 da una parte all'altra si ottiene un'espressione che già conoscevamo, ovvero la prima, ovvero che possiamo scrivere che a, o meglio a con 2, l'accelerazione della massa m2 è g seno di teta, dunque teta ce lo danno è 10 gradi e quindi possiamo tranquillamente determinarci g è 9,8 m2 al secondo quadro, se fate in questo conto viene circa 1,7, quindi g sen teta è l'espressione simbolico dell'accelerazione richiesta della massa m2, 1,7 m2 al secondo quadro è appunto il valore numerico, a questo punto mi vado a calcolare la forza di attrito statico agente su m1, perché è la domanda relativa alla lettera B, la forza di attrito agente su m1, attenzione che per quanto riguarda m1 abbiamo che su m1 agisce m1 g la forza di attrito sempre diretti a lungo la verticale agisce, abbiamo eccola qui, r con n1, quindi le componenti sono sempre p1 costeta e p1 senteta diretti così, attenzione abbiamo anche la forza, eccola qui, di attrito statico, ovviamente applicando il secondo picchio della dinamica però, qui la sommatoria delle forze è 0 in questo caso perché non c'è m1 ci dicono essere assolutamente inquiete, non si muove, almeno fino a un certo istante, quindi abbiamo che proiettando anche qui lungo l'asse normale tangenziale, qui abbiamo che ovviamente r con n con 1 è uguale a m con 1 g costeta, come al solito la relazione normale è equilibrata dalla componente normale della forza peso su m1 e poi abbiamo che meno la forza di attrito statico in modulo più m con 1 g senteta, componente tangenziale del peso che riguarda la massa m1 è uguale a 0 questa volta e in questo caso otteniamo subito che in effetti, la seconda domanda la chiamo qua, a con s in modulo è proprio m con 1 g senteta, cioè si trova come il modulo della forza di attrito statico coincide con la componente tangenziale del peso relativamente alla massa m con 1, a con s esulta essere proprio m con 1 g senteta che è circa, fate i conti, vi dico subito che non ve l'ho detto ma qualora andate a fare con la calcolatrice ovviamente, altrimenti uno dovrebbe ricordarsi dei valori che insomma in goniometria uno non è 10 gradi, non è un angolo notissimo, il seno di 10 gradi è 0,10 è stato 3, 0,17, bene se fate quel conto tenendo conto che m con 1,5 kg g 9,8 ms quadro appunto come detto il valore della senteta è quello lì, ottenete 8,5 N, valore in modulo della forza di attrito, ci chiedono poi, e qui entra in gioco l'allungamento, ci dicono domanda A, domanda B le abbiamo archiviate, domanda C l'allungamento della molla, nell'istante ci dicono in cui m con 1 entra in moto, però attenzione non è ancora entrato in moto, nell'istante in cui sta entrando in moto, quindi attenzione che, dunque ci chiedono l'allungamento, l'allungamento l'allungamento vuol dire che m con 2 già si muove con la velocità, la molla si allunga di un certo x, di un certo allungamento x, quindi andando a riscrivere il secondo principio della dinamica, attenzione, dove però anche qui la sommatoria delle forze è nulla, perché parliamo di m con 1 che ancora non si sta muovendo, con una certa velocità inizia a muoversi, quindi abbiamo che questo è sempre lo stesso, ovvero il secondo principio proiettato sull'ase normale non cambia, e qui abbiamo che però a questo va aggiunto che cosa? Va aggiunto Kx, la legge di Huck, Kx è la forza elastica, uguale a 0, attenzione, uguale a 0, quindi non andiamo a fare confusione, con, ve lo ricordo, l'attrito statico che è sempre minore o uguale dell'attrito massimo, che vi ricordo è pari al prodotto di mu con s, coefficiente del statico penere con n, ovvero mu con s, m con 1 g coseno di teta, questo è quello che va detto, quindi mu con s, m con 1 g cos theta, più, ovviamente con il meno davanti, m con 1 g cos theta, più kx uguale a 0, ovviamente la nostra incognita è x, quindi è x la richiesta, l'allungamento, x chi è? Allora, da qui kx è uguale a mu con s, m con 1 g cos theta, meno m con 1 g cos theta, cioè pari a, se volete, m con 1 g che raccogliamo al fattore comune in evidenza, mu con s cos theta, meno sen theta, e dividendo tutto quanto per k, x si trova che, l'espressione che volevo ottenere, ovvero m con 1 g diviso k se volete che moltiplica mu con s cos theta, meno seno di theta sono convinto che qualcuno mi scriverà, guarda che non si dice mu ma si dice mi, quando dicevo mi mi dicevate che si dice mu, sto pensando a sto fatto qua, il mio incubo direi, bene se fate sto conto viene un 0,6 metri, cioè un 60 cm circa, fatemelo scrivere in centimetri, visto che comunque altrimenti 0,6 metri non cambia assolutamente nulla. L'ultima domanda, beh, la conservazione dell'energia, ma quando caspita l'applichiamo qui, questo è il capitolo, e l'applichiamo adesso perché non a caso, dato che ci chiedono la velocità di m con 2, della massa m con 2, la velocità di m con 2, attenzione però, la domanda è, ma come è possibile se v con 0 già l'abbiamo? No, attenzione, leggiamo bene il testo, ci dicono che nell'istante iniziale m con 1 è inquiete, m con 2 è velocità, quindi v con 0 è proprio inteso come velocità iniziale, attenzione ragazzi, quindi ci chiedono la velocità alla fine, cioè nell'istante in cui ci stanno chiedendo la velocità non iniziale, ma la velocità in generale v con 2 di m con 2, no? Che sappiamo essere in moto sin dall'inizio, no? Allora, qui effettivamente possiamo dire che, allora, quali sono i, diciamo, quali sono i punti? Allora, intanto direi di procedere in questo modo, si conserva l'energia meccanica? Allora, intanto facciamo un attimo di, spieghiamo un attimo una cosa, ma uno dice, ma dove, i punti, quali sono i due punti? Per calcolare, ovviamente per andare a confrontare l'energia meccanica in due punti di riferimento di chi stiamo parlando, beh, qui ci dicono la velocità di m2, è chiaro perché m2 avrà una posizione iniziale che è questa qua, dove all'inizio, quindi consideriamo, per quanto riguarda m con 2, quindi occhio a non confonderci, m con 2 avrà un'energia meccanica iniziale e con 0, la chiamiamo, così non ci sbagliamo, nella quale c'è, vediamo chi, dunque, notiamo che abbiamo forza peso e forza elastica che sono tutte forze di tipo conservativo, quindi possiamo già affermare che nel passare da questa posizione 0, cioè da questa posizione iniziale alla posizione finale, dove ovviamente la massa avrà un'altra velocità, che è quella che ci chiedono, v con 2, posizione 2 la chiamiamo, l'energia meccanica si manterrà costante, perché abbiamo tutte forze di tipo conservativo, no? È chiaro che nel primo tratto la molla non si è ancora allungata, quindi la forza elastica è nulla, in 2 invece sarà una posizione più avanti, la molla sarà allungata e ci sarà anche l'energia potenziale della forza elastica, no? Un mezzo Kx elevato al quadrato, x abbiamo un quadrato di questo qua, eh? 0,6 metri. Quindi in 0 abbiamo l'energia potenziale della forza peso più K con 0, ci sono entrambe, dunque l'energia potenziale della forza peso, chi è? Ve lo ricordo è legata alla quota Mg, H con 0, ma H con 0 non ce l'abbiamo, più un mezzo, Mv04, che invece abbiamo, perché V0 è la velocità iniziale che ci fornisce il testo, che ci forniscono, che è presente nei dati del testo, l'abbiamo. Vediamo chi è invece l'energia, è con 2, beh con 2 ci sarà, U con 2 del peso, più U con 2 della forza elastica, più K2, che poi è la manconita, un mezzo Mv2 quadro e un mezzo Mv2 quadro, che poi V2 quadro è quello che vogliamo calcolare, no? Cioè, Mg H2, eppure H2 la quota in 2 non l'abbiamo, facciamo attenziale del peso, un mezzo Kx quadro l'abbiamo, un mezzo Mv2 quadro l'abbiamo, cioè l'abbiamo, V2 è quella che vogliamo determinare. Ma andiamo a fare i nostri calcoli, quindi abbiamo che l'energia meccanica, abbiamo stabilito, si conserva, quindi E con 0 è uguale a E con 2, ma se E con 0 quadro è uguale a Mg H2, quota alla quale si trova il nostro oggetto in 2, il nostro blocchetto chiamato M2 in 2, più un mezzo Kx quadro più un mezzo Mv2 quadro. Lascerei un mezzo Mv2 quadro a destra e porterei a sinistra questi due, scrivendo quindi che Mg H2, guardate un po', meno Mg H2 più un mezzo Mv0 quadro meno un mezzo Kx quadro, la forza elastica, è uguale a un mezzo Mv2 quadro. Concentriamoci su questo, perché questo ci dobbiamo, non abbiamo solamente l'incontro di Mv2, manca con 0, però possiamo fare, possiamo però dire una cosa, chi è questo? Dunque andiamo un attimo qui, io vi ricordo che il lavoro compiuto dalla forza peso, che poi è insieme alla forza elastica, cioè il lavoro della forza elastica, che lo possiamo determinare, è il lavoro della forza peso, dunque vi ricordo che il lavoro della forza peso, il lavoro è meno la variazione dell'energia potenziale della forza peso, cioè, dunque la variazione dell'energia potenziale è un finale meno un iniziale, meno la variazione dell'energia potenziale sarà un iniziale meno un finale, scambia il segno, quindi U con 0 meno U con 2, ma U con 0 meno con 2 è proprio, guardate, Mgh con 0 meno Mgh con 2, quindi questa qua, Mgh con 0, in evidenza, H con 0, H con 2, lo possiamo determinare se conosciamo chi è il lavoro della forza peso, ma non lo conosciamo chi è il lavoro compiuto dalla forza peso, è forza per spostamento, ovvero modulo della forza peso, per il modulo spostamento, che però è X, è l'allungamento della molla per il coseno dell'angolo compreso, ma il coseno è 0, perché la componente tangenziale della forza peso, o la forza peso, si intende componente tangenziale della forza peso, si muove così, e anche l'allungamento della molla è così, quindi l'angolo fra essi è l'angolo 0, quindi il coseno di 0 è 1, e quindi basterà semplicemente scrivere che il lavoro della forza peso è modulo, quindi è M con 2g senθ, che poi è la componente tangenziale della forza peso, che è quella che concorre, quella che consente alla massa di scivolare lungo il piano inclinato, per X, cioè, facciamo i nostri conti, è uguale a, guardate un po', beh, M con 1g per M con 2g senθ tutto diviso k, che moltiplica mu cosθ, meno senθ, poi si possono mettere le cose a posto, M1, M2, g quadro senθ, bene, è questo quindi quello che possiamo dire e si calcola, bene, questo è proprio meno delta U del peso, cioè è meno la variazione di potenziale del peso, che è proprio questo, quindi questo è proprio il lavoro della forza peso, cioè è proprio questo, quindi al posto di questo ci mettiamo questo, no? Ora ovviamente ce lo mettiamo qui, è chiaro, quindi spero di essere stato chiaro. Il problema è facilissimo, non difficile, ma c'è da sto fatto che bisogna ricordarsi. Allora, quindi questo è, lo scriviamo, dunque, io direi di scriverlo così, M1, M2, g quadro diviso k, mu senθ cosθ, meno sen quadro teta, cioè ho moltiplicato in pratica senθ per mu cosθ per meno senθ, più un mezzo mv con zero quadro, meno un mezzo, kx quadro, però poi x quadro è quello, in realtà è uguale un mezzo, mv con due quadro. Dunque, ovviamente x quadro noi lo dovremmo scrivere, perché x quadro, quindi, specchiamo un po' di tempo adesso, ci mettiamo un po', ci imbocchiamo le maniche, è un po' di simbolico, quindi abbiamo un, allora, intanto moltiplicherei, allora, moltiplicherei per due, dunque, ovviamente questo è un M2, questo è un M2, e quello, attenzione, è M1, quindi dove ho scritto M, intendevo M2, sto parlando della massa M2, quindi ho che non confonderci. Intanto moltiplico per due, ottengo un M2, M1, M2, G quadro, diviso k, che moltiplica mu, senθ, cosθ, meno sen quadro θ, più M2, V0 quadro, meno, meno k, dunque, x quadro è, ripeto, M1 quadro, G quadro, fratto k quadro, che moltiplica mu, senθ, cosθ, meno sen quadro θ, meno senθ, al quadrato, però, è uguale a M2, V0 quadro, va bene? Divido per M2, quindi ottengo un, due volte, M1, G quadro su k, mu, senθ, cosθ, meno sen quadro θ, ho eliminato, ovviamente, M2, qua, più, V0 quadro, allora, qua, k se ne va, rimane k sotto, meno, M1 quadro, G quadro, diviso, k, M2, per il quadrato di mu, con s, cosθ, meno senθ, uguale, V0 quadro, in definitiva, questo se volessimo scriverlo del simbolico, eh, spero di non essere sbagliato, comunque, i calcoli, facciamo tranquillamente, potevamo mettere al posto di x, direttamente, 0,6 metri ad arrivare al quadrato, eh, quindi, senza problemi, quindi, V0, non è altro che la radice di questo, quindi, è la radice quadrata di, 2, poi uno può raccogliere, insomma, adesso lo scrivo così, M1, fratto k, G quadro, che moltiplica, mu con s, cosθ, senθ, meno sen quadro di θ, più, V0 quadro, meno, M1 quadro, su K, M2, G quadro, che moltiplica questo quadrato di mu con s cosθ, meno senθ, eccolo qua l'espressione, bene, se fate questo conto, un conto incredibile, vi viene fuori un 0,7 metri al secondo, è un qua risolto.